Siamo nella sede dell'ACA a Pescara, l'azienda consortile acquedottistica che serve diversi comuni della Val Pescara non attraverso questo macchinario che è un po' antico negli anni, diciamo così, ma attraverso sistemi molto più moderni talmente moderni da rilevare poi qualsiasi contaminazione in tempo praticamente reale ed è un po' quello che è successo perché sono stati fatti prelievi di routine, controlli che vengono fatti costantemente e che però hanno permesso di rilevare la presenza di un batterio che si chiama Clostridium Da ieri dunque in questi dieci comuni l'acqua non è da considerarsi potabile mentre può essere utilizzata per usi alimentari, previa bollitura e questo almeno fino a sabato quando si avrà il risultato dei prelievi fatti in queste ore dalla ASL La presidente dell'ACA, Giovanna Brandelli, da noi sentita al telefono ha sottolineato che la notizia dello sforamento di un unico parametro indica in realtà il perfetto funzionamento del sistema di sicurezza visto che il Clostridium è emerso da controlli di routine Ovviamente anche ad allarme rientrato si continuerà ad innagare per scoprire le cause dell'accaduto Per il momento si fanno delle ipotesi, alcune delle quali molto verosimili Certo è anche che le variabili che condizionano ogni prelievo di campionamento possano essere tante e diverse come conferma il direttore tecnico dell'ACA, Lorenzo Livello Il prelievo fatto post clorazione viene fatto sempre in un rubinetto che è sempre chiuso, di solito quindi quando viene aperto vengono fatte tutte le procedure di disinfezione, di pulizia però non sai mai se nel periodo in cui è stato fermo, chiuso il rubinetto si possono essere anidate delle forme batteriche che è cosa ben diversa dal flusso d'acqua e della condotta che scorre continuamente e va in distribuzione Diciamo che la sorgente Rigopiano, la sorgente Vitellador in questione di Farindola andando a studiare un po' le cause è una sorgente che prende la base, la falda basale dell'acquedotto del Gran Sasso e poi c'è degli inghiottitoi, il fosso Rigopiano dove ci sono degli inghiottitoi che raccolgono anche acqua meteorica probabilmente dopo un lungo periodo siccitoso sabato e domenica ci sono state le piogge probabilmente ci sono stati dei trascinamenti di materiale fecale di pascoli che hanno depositato nei mesi scorsi qualcosa e quindi quella può essere stata la causa, non lo sappiamo certo è che stamattina ne parlavo con il presidente faremo un incontro con il sindaco di Farindola, con il parco eccetera per vedere se si riescono, se possiamo delimitare delle aree un po' più ampie in prossimità di quel fosso, di quel fossato, di quegli inghiottitoi di acqua meteorica che potrebbero andare a creare questo tipo di problema So che voi vi state occupando anche di fornire delle bottigliette d'acqua alle scuole e nei comuni che ne hanno fatto richiesta in particolare in questo caso parliamo di penne dove manderete appunto per i ragazzi che sono a scuola che non possono bere l'acqua da rubinetto per così dire, manderete queste bottiglie Il sindaco ci ha chiesto questo servizio quattro plessi scolastici, circa 2000 alunni quindi stiamo facendo questo servizio altri sindaci, nel momento in cui ci chiamano lo faremo il nostro dovere Grazie a tutti